La tradizione è fiaccolata per le vie di Torino e decine di appuntamenti istituzionali, musicali, culturali per celebrare il settantesimo anniversario della liberazione. Anche quest'anno Consiglio regionale con il Comitato Resistenza ha partecipato alle commemorazioni in alcuni luoghi simbolo della memoria. A simboleggiare la festa del 25 aprile in particolare ci sono state le brevi esibizioni dell'Orchestra Dixieland Viaggiante, ospitata a bordo dei mezzi militari d'epoca. Grazie a tutti!